PfM, innanzitutto è un piacere trovarvi e ritrovarvi per parlare di questo progetto così straordinario, ne parlavamo prima in conferenza stampa, un progetto live dove davvero chiudendo gli occhi si possono vedere delle immagini, ma veramente le immagini che avoca la musica. Grazie per questo complimento perché è esattamente quello che volevamo fare e quando sentiamo qualcuno che dice grazie perché questo e questo e questo, noi siamo contenti perché facciamo i concerti col pubblico, il pubblico è presente, il pubblico lavora con noi nel senso che partecipa, facciamo partecipare il pubblico, facciamo delle scalette che cambiano in continuazione perché non ci piace stare fermi ma ci piace sempre continuare a spostare l'asticella più avanti perché la corsa è ancora lunga. Sì, anche perché è un concerto dal vivo davvero, ecco è un concerto dal vivo davvero ed è questo che fa la differenza, non siamo più abituati a sentire i concerti di registrazione dal vero, senza artifici, senza essere rifatto in studio, senza essere manipolato e via dicendo allora alla fine dei conti è un disco che sia dal vivo che sia in studio più o meno suonano tutti uguali, invece questo è un disco che è dal vivo e si sente veramente tanto, quindi credo che sia importante comunque oggi come oggi ogni tanto rimettere le cose a posto e dire quando si fa musica dal vivo deve essere registrata dal vivo. Ma io ho apprezzato moltissimo anche la track list, la scaletta di questo progetto anche perché mi dà l'impressione che sia davvero una vetrina, un modo per entrare nel mondo PFM e forse per incuriosire ancora di più su quello che poi è il vostro approccio live, la vostra anche libertà da questo punto di vista. Sì, in un certo senso quello che dici è giusto perché per esempio noi ci concediamo dei brani che non sono necessariamente i più famosi ma sono i brani che stanno dentro questa storia che noi vogliamo portare quando andiamo in pubblico e soprattutto ci ritagliamo degli spazi nostri, quindi sono due o tre brani che sono brani strumentali, strumentali dove noi facciamo delle jam session che ovviamente abbiamo delle parti chiave che sappiamo perfettamente ma abbiamo dei momenti in cui non sappiamo cosa andremo a fare, uno tira la volata e gli altri li corrono dietro. Questa cosa qui abbiamo visto che il pubblico apprezza tantissimo perché si rende conto che stiamo facendo qualcosa davanti a loro, è come posso dire un concerto al dente, non è riscaldato assolutamente. E poi quello che comunque piace è che tanti anni ascoltando appunto anche i vostri concerti live è la vostra capacità di essere sempre nuovi, di rinnovarvi completamente senza snaturarvi trovando sempre quella peculiarità che rende il concerto unico, sempre unico. Grazie a dire così perché se no non saremo più in grado di fare i concerti, dopo averne fatti 6.000 ti rendi conto che diventa veramente problematico risalire su un palco e fare ancora qualche cosa che assomiglia alle 5.999 cose che hai fatto prima. Quindi è l'unica cosa che ci mantiene con la voglia di salire su un palco dopo 50 anni è proprio quello, il fatto che non facciamo sempre cose diverse sia per noi che per il pubblico, ma per noi ancora di più è di conseguenze per il pubblico che ovviamente ci segue, ma se non facessimo così non avremmo già smesso di suonare da un sacco di tempo, perché non c'è niente di peggio che tra l'altro fare un concerto, un mestiere creativo in modo di replicare un mestiere, un evento creativo, perché un evento creativo di per sé è creativo, quindi deve essere creativo al momento, non può ripetersi all'infinito e di questo abbiamo la fortuna di avere molta esperienza ovviamente, di aver fatto tanti concerti e quindi avere la capacità di farlo. una cosa bella che spesso incontriamo delle persone che dice, io ho visto il concerto di e quindi hai sempre intorno persone che hanno visto un concerto e che ne vedono uno e dicono ma questo è nuovo, non è quello di prima, ma certo, se no non saremmo qui, guarda. Ma poi quello che è il bello è che tutti questi concerti, tra l'altro verranno nuovamente, questi nuovi concerti poi faranno parte di una collana, di una catena anche di… Sì, sì, ci piace quest'idea di fare una fotografia ogni volta che facciamo un concerto nuovo, una tournée nuova con concerti, con brani, una scaletta diversa, improvvisazioni diverse, modi di suonare diversi, è una fotografia che serve a tutti, serve al pubblico e serve anche a noi, perché è bello andare a sentirci quello che hai fatto, perché tu lo senti dal vivo, è un po' quando abbiamo visto il film, il concerto ritrovato, quello con Fabrizio, per la prima volta ci siamo visti da davanti, con Fabrizio, perché noi non, ma Fabrizio lo venivamo sempre da dietro, allora è bello ogni tanto avere una testimonianza che ti fa vedere quello che fai dall'esterno, è una cosa molto bella, quindi senz'altro faremo questa cosa di avere questi concerti che verranno registrati qua e là. Una delle cose belle veramente a cui teniamo è il fatto di crearci degli spazi che sono di improvvisazione, noi sappiamo, abbiamo dei punti di riferimento in cui noi ci troviamo tutti, è come darci l'appuntamento e poi ritrovarci, però abbiamo delle parti interne dove non sappiamo cosa succede, perché può essere una solo di basso, può essere una solo di chitarra, può essere una solo di organo e queste cose qui sono quelle che ci danno la linfa vitale perché stiamo giocando, non sappiamo come va a finire, quindi è anche per noi, è una scoperta e tutte le volte provare questa emozione fa la differenza in un concerto live in cui il live significa veramente fatto in quel momento, in quell'istante di fronte a quel pubblico. È da qui che parte l'idea di fare una collana che metta tutti insieme questi momenti belli che abbiamo vissuto. E poi in un concerto come quello che appunto è nel disco di Lugano c'è anche questo incontro generazionale, io lo definisco davvero al servizio della musica. Sì, soprattutto perché ci sono questi brani assolutamente inediti perché sono improvvisazioni, un brano che si chiama Transumanza Jam e non l'ho mai sentito. Sì, soprattutto con un musicista con chi non abbiamo mai suonato prima che ci conosce attraverso suo papà che è un musicista professionista, anche lui ci conosce perché abbiamo fatto parte dell'inizio della sua carriera e poi è un musicista straordinario, quindi cosa c'è di più bello che fare un disco con uno con chi non ha mai suonato e che dà una linfa nuova, una linfa diversa, non nuova perché noi abbiamo un chitarrista che è formidabile, che è Marco Sfogli e che ci torniamo ben stretti ovviamente, però è stato molto molto bello fare questa cosa con Mancuso e chissà se un giorno non capiterà un'altra volta, chissà se un giorno non suoneranno tutti e due insieme, Marco e Matteo, in un concerto della PFM. Comunque ci piace tantissimo giocare alla nostra esperienza perché la nostra esperienza è naturalmente a disposizione del pubblico che verrà ad ascoltarci. Grazie davvero, buona musica. Ciao, grazie. Grazie.